Il cinema, le audiovisivi, i media a più larga scala, oltre ad essere lo specchio delle mutazioni del tempo in cui viviamo, possono illuminare il passato, accendere la memoria e aiutare ad interpretare il presente, aprendo possibilità di crescita culturale, umana, sociale, oltre che identitaria. Lo dimostra il mediometraggio, del quale a settembre uscirà la versione più lunga, con immagini vere e inedite, Bruciate Napoli, di Arnaldo Deleaie, regista e sceneggiatore che celebra con un'impronta più intimista le quattro giornate di Napoli del 43, omaggio a Nanni Loi, nel quale il regista è stato allievo, presentato all'orientale nell'ambito del laboratorio di audiovisivi del professore Francesco Giordano. C'è bisogno oggi di memoria storica per i giovani, ecco perché accendere il passato può in qualche modo illuminare, voglio dire, il presente? Sì, il mio rammarico è che purtroppo i giovani, anche i meno giovani, non conoscono nel modo più assoluto le quattro giornate di Napoli e questa pagina di storia dei napoletani. Questo è un mio grosso rammarico, ecco perché voglio farlo conoscere liberamente dappertutto, quando più è possibile. Lei ha mostrato in modo forte un carattere dei napoletani, che è quello della profonda umanità, solidarietà, capacità di ribellarsi. Secondo lei oggi il popolo napoletano in questo contesto storico è ancora capace di reagire al sopruso, alla violenza? Io dico che purtroppo la mia generazione non è capace e anche i nostri figli non sono capaci perché dopo una guerra i figli hanno tutto il possibile, vivono molto bene, ma io spero che voi, nuova generazione, nuovissima generazione, riuscite veramente a reagire e combattere. La napoletanità di un popolo resiste in una città ferita a morte che non dimentica.